Orso Bartolomeu raggiunge Wedcore alla base della linea rossa, scatenando il panico tra le persone. Nel frattempo Vegapunk e i suoi satelliti ragionano su come fuggire dall'isola, arrivando alla conclusione che saranno costretti a combattere. Vegapunk contatta un loro alleato infiltrato che accetta di aiutarli nonostante voglia dire fare saltare la propria copertura. Intanto ha fabbiofase, mentre la CP0 valuta come accedere alla bofase che ha assediato, il sistema di sicurezza improvvisamente viene disattivato da qualcuno. Quasi increduli luci, Kaku e Stassi raggiungono così facilmente la bofase e trovano la Sunny, decidendo di distruggerla. Intanto l'ammiraglio Kizaru si sta dirigendo a Eket con una flotta di navi del governo.